Con il vice allenatore del San Buceto, Marini, allora 6 a 0, parte sinistra della classifica, insomma alla fine avete trovato il modo di aggiustare questa stagione, no? Sì, va bene, la squadra l'abbiamo inquadrata negli ultimi mesi, è chiaro che oggi non fa testo, perché l'Alba Adriati è una grande squadra, l'ha dimostrato nella prima parte del campionato, ma oggi io volevo fare, non l'ho mai fatto, un ringraziamento a questa società di persone oneste, serie, che se ne trovano in poche, quindi auguro a tutti gli allenatori, tutti i giocatori di trovare il San Buceto, una volta nella vita. Con il capitano dell'Alba Adriatica Fabrizi, allora una brutta sconfitta, perché questo finale di stagione è così, insomma, poco incisivo da parte vostra? Sì, diciamo che già da tre giornate a questa parte, da quando è sfumato il sogno, perché comunque era un sogno dei play-off, è raggiunta la quota salvezza matematica, abbiamo allentato un po' la corda, abbiamo allentato un po' la corda, tutti quanti, io in primis, ci sta magari perdere o comunque pareggiare come abbiamo fatto le giornate scorse, non ci sta perdere come abbiamo perso oggi, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo, non stava per niente sceso in campo, poteva finire anche con un margine anche più ampio, e niente, abbiamo chiesto scusa a chi è venuto qui a vederci facendosi questi chilometri, anche se erano pochi, e niente, farci un esame di coscienza tutti quanti. Grazie. Grazie.